e ho un cavallo sul quale vado per le mie terre e allora credo di essere un re ma non mi pare che tutto sia lì credermi un re quando monto a cavallo e vorrei acquistare un'altra cognizione e sentirmi diverso con qualcosa di nuovo nell'anima darei tutto quello che possiedo e il cavallo anche le terre pur di sentirmi più in pace con gli uomini come uno che non ha nulla da rimproverarsi non perché io abbia qualcosa di particolare da rimproverarmi nient'affatto e nemmeno parlo in senso di sacrestia ma non mi sembra di essere in pace con gli uomini vorrei avere una coscienza fresca e che mi chiederebbe di compiere altri doveri non i soliti altri dei nuovi doveri e più alti verso gli uomini perché a compie di soliti non c'è soddisfazione e si resta come se non si fosse fatto nulla scontenti di sé delusi credo che l'uomo sia maturo per altro non soltanto per non rubare non uccidere eccetera e per essere buon cittadino credo che sia maturo per altro per nuovi per altri doveri e questo che si sente io credo la mancanza di altri doveri altre cose da compiere cose da fare per la nostra coscienza in un senso nuovo